Buongiorno ragazzi, in questo quesito si devono considerare le seguenti disequazioni. Sen x maggiore uguale a un mezzo, seno di 2x maggiore uguale a un mezzo. Si chiede in quale frazione dell'intervallo 0,2π almeno una delle due disequazioni, cioè una o entrambe, è verificata? Risposta a un terzo, b 13 ventiquattresimi, c 7 dodicesimi, d 5 ottavi. Vediamo la soluzione e la svolgeremo in due modi. La prima parte, quella che ci permette di trovare le soluzioni di queste disequazioni. Primo modo il metodo della circonferenza agognometrica, secondo modo utilizzando la sinusoide, cioè disegnando le due funzioni, y uguale a sen x e y uguale a seno di 2x. Iniziamo col primo modo. Risolviamo la disequazione sen x maggiore uguale a un mezzo. Rappresentiamo la nostra circonferenza agognometrica, mettiamo una retta ad altezza un mezzo, quindi y uguale a un mezzo come retta. Le soluzioni sono date dagli angoli di 30 gradi e di 150. Le soluzioni, cioè dove il seno è uguale a un mezzo. Quindi la parte di circonferenza che soddisfa la nostra disequazione è la parte sopra, cioè tutti gli x appartenenti all'intervallo pi greco sesti, 5 sesti pi greco. Adesso dobbiamo svolgere seno di 2x maggiore uguale a un mezzo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mio angolo 2x deve essere sempre compreso da pi greca sesti più 2k pi greco, che è la periodicità, e 5 sesti pi greco più 2k pi greco. Divido per 2 e trovo che gli intervalli delle x che soddisfano questa seconda disequazione sono pi greco dodicesimi più k pi greco, fino a 5 dodicesimi pi greco più k pi greco. Ho dimenticato due lettere pi greco, dopo le aggiungo. Cosa vuol dire? Andiamo a rappresentare queste soluzioni in un'altra circonferenza. Intanto sto tracciando le soluzioni della prima, del seno di x maggiore di un mezzo, che è soddisfatta in questa parte di circonferenza. Poi andiamo a disegnare gli altri angoli, quelli che abbiamo trovato per la seconda soluzione. Quindi pi greca dodicesimi, poi andiamo in ordine, abbiamo 5 dodicesimi pi greco, poi dall'altra parte abbiamo il 13 dodicesimi pi greco e in basso, vicino al 270 gradi, ci ritroviamo a avere 17 dodicesimi pi greco. Questi sono gli intervalli, questi qui colorati di verde, che soddisfano la seconda disequazione. Io voglio che almeno una delle due sia verificata. Quindi voglio tutta questa parte di circonferenza che sto colorando di rosso. Vedete? Quindi le soluzioni sono appartenenti a questo intervallo, da pi greco dodicesimi fino a 5 sesti pi greco, unito all'altro intervallino nel terzo quadrante, 13 dodicesimi pi greco fino a 17 dodicesimi pi greco. Questi sono gli intervalli delle soluzioni. Adesso dobbiamo calcolare la lunghezza dei due segmenti per riuscire poi a rispondere alla domanda. Quindi abbiamo 5 sesti pi greca meno pi greca dodicesimi, che dà come risultato tre quarti pi greco. Poi facciamo la differenza tra 17 dodicesimi e 13 dodicesimi, che mi dà 4, raccogliamo il pi greco, lo mettiamo qui, che dà 4 dodicesimi pi greco, cioè otteniamo un pi greca terzi. Andiamo subito a correggere l'errore, ragazzi. Qui dove avevo scritto solo 5 sesti e sotto 5 dodicesimi abbiamo detto a voce che ovviamente bisognava scrivere 5 sesti pi greco e sotto il nostro 5 dodicesimi pi greco. Cerchiamo di capire anche da dove arriva questo secondo intervallo azzurro, 13 dodicesimi pi greco e il nostro 17 dodicesimi pi greco. 8 è sommato a pi greco dodicesimi pi greco, mettendo a k il valore 1. Lo stesso con 5 dodicesimi pi greco più pi greco e sono arrivata a 17 dodicesimi pi greco. Quindi il valore 0 di k mi ha dato il primo intervallo nel primo quadrante, il valore 1 di k mi ha dato l'intervallo nel terzo quadrante. Ovviamente non posso andare avanti con le soluzioni, con altri valori di k, perché sto ricercando le mie soluzioni all'interno dell'intervallo 0, 2 pi greco. Queste sono le lunghezze dei due intervalli. Calcoliamo ora la frazione dell'intervallo 0, 2 pi greca in cui quindi abbiamo queste soluzioni. Almeno una delle due è verificata. Andiamo quindi a calcolare la somma di questi due intervalli, 3 quarti pi greco più pi greca terzi, rispetto ovviamente all'intervallo intero che ha lunghezza 2 pi greco. Facciamo il denominatore comune a numeratore, che viene 12, quindi a numeratore invece otteniamo come risultato il nostro 9 più 4 pi greco, fratto 2 pi greco, pi greco si semplifica tra di loro, e quindi otteniamo 13 ventiquattresimi. E questa è tra le nostre soluzioni. La risposta esatta è quindi la b. Perfetto ragazzi, adesso vediamo come arrivare agli intervalli usando le sinusoidi. Quindi disegniamo la funzione y uguale a seno x, e adesso disegniamo la funzione y uguale a seno di 2x, che ha ovviamente periodo pi greco. Rappresentiamo in verde la retta y uguale a un mezzo, questi sono i punti di intersezione, e vedete che l'intervallo che soddisfa almeno una delle due equazioni è dato proprio dai nostri intervalli che abbiamo già calcolato. Quindi posso procedere con lo stesso ragionamento per la ricerca della frazione, e quindi posso arrivare a dire che la risposta esatta è la b. Evidenziamo con colori diversi per mettere in evidenza gli intervalli delle soluzioni a cui siamo arrivati. Qui sto colorando di rosso sulla retta y uguale a un mezzo gli intervalli dell'asse delle x che corrispondono alla soluzione di seno di 2x maggiore di un mezzo. Vedete che lì all'interno, in quell'intervallo, la curva è maggiore. Sto colorando adesso invece di verde l'intervallo per cui il seno di x è maggiore di un mezzo. Vedete che la curva blu in questa parte rimane sopra la nostra retta verde. Se adesso andiamo giù a tracciare le soluzioni e vediamo dove almeno una delle due è definita, scopriamo che gli intervalli sono proprio quelli che vanno da pi greco dodicesimi fino a 5 sesti pi greco. Eccolo qua, e questo è il primo intervallo. E poi l'intervallo che va da 13 dodicesimi pi greco al nostro 17 dodicesimi pi greco. Queste sono le soluzioni a cui siamo arrivati anche con il primo modo. Spero che sia tutto chiaro, altrimenti iscrivetemi. Ci vediamo domani con il prossimo quesito. Intanto auguro a tutti una buona serata.